Vincitore Junior Bake Off 2019, chi tra Antonio, Sara, Rachele e Samuel conquisterà la vittoria di questa nuova edizione? Tutti i pronostici Junior Bake Off Italia 2019 è pronto per la grande finale. Il talent culinario che aggiudica il titolo di miglior pasticcere, andrà in onda alle 21 10 su Real Time, canale 31 del digitale, Sky 131 e 132, TVSat canale 31. L'hashtag ufficiale della trasmissione è Cancelletto Junior Bake Off I profili social per commentare la puntata sono quelli di Real Time, Facebook, Twitter, Instagram, e ulteriori info e clip si possono trovare sul sito ufficiale del canale Le puntate si svolgono sotto il tendone di Villa Bagatti Valsecchi di Varedo, ambientato questa volta nella magica soffitta di Mary A guidarli dietro i banconi di Junior Bake Off Italia c'è, come sempre, Katia Follesa che, con la sua simpatia, riesce sempre a strappare un sorriso ai piccoli pasticceri Dando uno sguardo alla scorsa puntata ricordiamo che al primo posto è arrivata la palermitana Sara mentre seconda Rachele Il grembiule e blu del migliore della puntata è andato quindi a Sara. In finale troveremo anche Antonio, Rachele e Samir Sara conquisterà la vittoria di Junior Bake Off FF. . Mancano poche ore alla finale di Junior Bake Off Italia 2019 e la grande favorita sembra essere la siciliana Sara 11 anni, durante tutte le puntate, ha conquistato con la sua dolcezza ma soprattutto bravura i giudici Ernst Knamm, Clelia Donofrio e Damiano Carrara Anche la piccola Rachele, quando ha assegnato le torte, ha dato nella scorsa puntata la foresta nera, proprio perché Sara è la più brava, ha detto ai giudici Intanto, attraverso i social, i telespettatori continuano ad apprezzare tantissimo l'edizione dedicata ai più piccoli Questi alcuni commenti, meglio i bambini degli adulti? Bravissimi. Dolcissimi Fantastici. Riguardo la scelta del grembiule e blu, affidato a Sara, invece, è bravissima ed è anche una bambina molto dolce ed educata Brava mi è simpatica anche io la vedo come possibile vincitrice. Sara te lo meriti tutto e ti dona anche il blu. Confermate quindi le impressioni che vogliono la siciliana Sara grande favorita per la vittoria finale Grazie per il like